Ecco, è andato dai, va così Bella So che mi viene mossa un casino Lo stesso dai, che mi viene, viene Ci divertirà più chi lo guarda Seconda Regista anche il volume Sì sì Strada da Montepusca per andare verso Montefreddo Temperatura meno 11 gradi Un po' freschino Un po' eh Finora tutto bene Una volta stavo qua Mi ha dato te, chissi chiamati No, sono stato degli anni La linea fuori Like that Grazie a tutti. Lì a destra c'è una strada alternativa che non ho mai fatto. Come? Quella che portava alla casa? Quella lì, fa il giro di là. Però portava alla casa dove ero io. Ah sì, sì sì. Sai che è più bello inquadrare gli alberi che la strada? Solo che... Ma comunque la prende sai perché dovrebbe avere l'angolo abbastanza largo. Sì. Quindi un po' più dello schermo che si vede. Sì. Perché ho visto degli alberi che di qua erano affigati. Allora dopo ci facciamo a tirare forte. Ma se che è riuscita qui... Io boh... Che no boh... Poi perché qui l'hanno affigliata, se no... Che affigliata... Siamo andati un po' ricareggiati. Non è pur di niente. Non è pur di niente. Passare proprio... Senti il ghiaccio sotto. Bella, bella. Ti viene un po' massa. E' su stai. Bellissimo. Vediamo fino al chassare lì della casa. Ah sì. C'è, ci arriviamo domani. Nooo. Bastardi. Nooo. Aspetta che adesso facciamo retromarcia. Vedo un cazzo. E' dietro. Oh qui? C'è ghiacciato. Aspetta, magari spegni. E poi dopo magari...